Augusta, beccati a rubare il carrello di un'imbarcazione, i carabinieri arrestano due pregiudicati. Si introducono in una villetta nella periferia della città megarese, forzando il cancello d'ingresso per rubare un carrello di una imbarcazione. Sarebbe stato un colpo non di poco conto se i carabinieri della stazione dell'aliquota radio mobile di Augusta non fossero riusciti a mettersi sulle tracce dei ladri e a sventare il furto dei mezzi. Due uomini, uno del luogo di 24 anni e uno di Catania di 41 anni, sono stati arrestati da Augusta dai carabinieri per furto aggravato. Il carrello è stato restituito al proprietario e gli arrestati, dopo la convalida, sono stati sottoposti all'obbligo di dimora nei rispettivi territori di residenza come disposto dall'autorità giudiziaria Aretusea.